Al piombo si gioca Calvarese-Ruentes, due squadre che hanno voglia di rilanciarsi con obiettivi di campionato differenti. Al decimo minuto gli ospiti si portano in vantaggio, Micheletta sterza in area di rigore, serve Privino che mette il girel e deposita il pallone in rete sul secondo palo con Meneghello che non accenna nemmeno la parata. La risposta timida arriva su punizione con Soracase ma la palla si spegne alta sopra la traversa mentre è sempre da un calcio piazzato che arriva il colpo di testa di Pons della Ruentes che però termina fuori misura. Al 34esimo minuto errore Ruentes durante il giro palla Soracase ne approfitta e si presenta tu per tu con Bussanic, chirurgico il capitano bianco-rosso che non perdona la retroguardia ospite e pareggia i conti. In chiusura di primo tempo ci prova Grilli ma si oppone bene la difesa ospite. Nella ripresa è Borinato che si libera e calcia il pallone che si spegne però a lato. Centra invece la porta ancora una volta Soracase ma Bussanic è ben posizionato e respinge il pallone. La spinge anche Meneghello il portiere bianco-rosso con un colpo di Reni sul tiro al volo di Privino ma lo stesso portiere non può nulla quando è proprio il 10 della Ruentes che cerca e trova la testa di Grilli ben appostato in area di rigore. È il gol che regala agli uomini di Siri il definitivo vantaggio ma c'è ancora spazio prima per due buoni interventi di Meneghello, prima sul tiro dalla distanza di Grilli, poi sul tiro cross di Privino. Dopodiché spazio alla Moviola perché sulla sinistra arriva il cross di Canessa. Olmo stoppa in area di rigore e tenta la rovesciata per il direttore di gara colpendo la mano di Fugazzi. Attenzione, dalle immagini sembra essere però proprio il numero 13 a levare con la mano il pallone dal piede del Bobber. Ruentino, la calvarese chiude in attacco e il destro di Azzori si spegne alla sinistra di Bussani, c'è l'ultimo lampo del match. A Calvari vince 2-1 la Ruentes.